I bookmaker inglesi accettano scommesse sul governo Monti. Lei potendo scegliere preferisce perdere molti soldi dandoli a un'agenzia di scommesse o all'agenzia delle entrate? E siccome trattasi di gran domandissima, sappiamo già da che parte è stata e ve lo dice Matteo. Le tasse hanno superato le scommesse di poco. Pur di perdere i soldi, il 55% di chi ha votato preferisce darli all'agenzia delle entrate e non ai bookmaker.